8 comuni della provincia di Isernia presto potranno contare su un nuovo polo scolastico. Sorgerà a Carovilli, sarà sicuro ed efficiente. Più nessuno ostacola la realizzazione di un polo scolastico a Carovilli. 2,8 milioni di euro le risorse a disposizione per l'opera che accoglierà studenti di 8 comuni. Oltre che di Carovilli anche di Vasto Girardi, Pescolanciano, Chiauci, Pietrabbondante, Capracotta, Civitanova del Sannio e Roccasicura. A breve l'avvio delle gare d'appalto, poi l'assegnazione dei lavori perché la struttura, sicura ed efficiente, sia consegnata nel più breve tempo possibile. Dal 2012 parte questa idea di realizzare un'unica scuola per 8 comuni all'Altissimo Morise, dopo una serie di vicissitudini e di problemi. Nell'ultimo anno, da febbraio 2017, d'accordo con la Regione e con gli enti prepostati Lascio dei Pareri, abbiamo progettato una nuova scuola. Una nuova scuola per questi 8 comuni. È stato un lavoro molto molto intenso, ci siamo riusciti, abbiamo un progetto definitivamente approvato da tutti gli enti. E ieri è arrivato il disciplinare di concessione del finanziamento del 2 milioni e 8 da parte della Regione, che ha dovuto riprogrammare. Quindi è stata veramente una grande scelta e anche coraggiosa da parte della Regione e da parte nostra. Però finalmente ora siamo pronti per indire la gara d'appalto dei lavori, sperando di iniziare il mese di giugno. Grazie. 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 Grazie.